Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e sto pubblicando questa serie di video perché vorrei che anche tu partecipassi a questa diretta gratuita intitolata Sticks and Pad Nights, dedicata allo sviluppo della potenza, velocità e controllo delle tue mani. Andiamo un po' più nel dettaglio su questa serie di appuntamenti. Saranno 12 dirette, durante le quali eseguiremo questi workout, di cui adesso andrò a spiegarti nel dettaglio che cosa tratteremo. Lavoreremo su 5 argomenti raggruppati in 3 macro sezioni. Le macro sezioni sono il flusso binario, il flusso ternario e i rudimenti. Il primo argomento che andremo a vedere sarà il free stroke, un colpo molto importante. Il secondo invece sarà uno stick control avanzato e potenziato da me. Il terzo argomento invece è dedicato agli endurance, a colpi singoli e a colpi doppi. Il quarto argomento invece è dedicato agli accenti e all'eventuale impiego della tecnica Müller. Infine nel quinto argomento metteremo tutto insieme eseguendo un power workout dedicato esclusivamente ai rudimenti per rullante. Tutto questo lavoro lo faremo una settimana sul flusso binario, un'altra settimana sul flusso ternario. E poi metteremo tutto insieme nella terza sezione facendo questo workout per i rudimenti che contiene sia il binario che il ternario. Ora lascia un attimo che ti dica che cosa non è questo sticks and pad nights. Non faremo delle letture tratte da libri di testo. Faremo esclusivamente degli esercizi ripetitivi di meccanica per assimilare, memorizzare, memoria motoria. Cioè tutti quei patterns che userai quando suoni senza pensarci. E questo si può ottenere solo in un modo, ripetendolo tante volte. Il fatto è che non possiamo limitarci a due cosettine semplici semplici. Dobbiamo ampliare il nostro arsenale di strumenti in modo da poter avere sempre la possibilità di variare, di inventare. Ok? Quindi per questo motivo l'efficienza tecnica è fondamentale. E questo workout e queste sticks and pad nights serviranno proprio a questo. Per cui se vuoi approfondire ancora il discorso sul percorso che affronteremo in queste 12 settimane ti invito ancora a mettere il like sulla pagina Facebook di The Drum Booster e di iscriverti al gruppo Strumenti per il Batterista Intelligente. Così avrai sempre la notifica della pubblicazione di un nuovo video e dell'appuntamento che ti ripeto essere mercoledì alle 21.30. Ti svelerò la data più avanti. Per cui ci vediamo nel prossimo video. Io ti lascio con un abbraccio e mi raccomando Sticks and Pad Nights con Ruggero Pazzaglia